Ciao ragazzi! Non va bene. Ok. È arrivato il momento di parlare di seno e coseno. Ma cosa fa? Mangia il gessetto! Il seno sarà la coordinata Y del punto di intersezione tra la circonferenza unitaria e la semiretta che definisce l'arco. Non si è capito niente. Vi farò una guida trigonometrica. Venite con me. Non scrivere mentre guidi! Costruite intorno a te. Ok. Aspetta. Asse delle X. Asse delle Y. Origine. Circonferenza di raggio 1. Dato un angolo qualsiasi, il coseno sarà dato dalla proiezione di... questo segmento sull'asse delle X. Il seno, invece, sarà la proiezione del stesso segmento sull'asse delle Y. Refresh gli angoli. Mi mangio un pi greco quarti. Vediamo seno e coseno per alcuni angoli del primo quadrante. Come primo esempio abbiamo l'angolo 0. Il coseno varrà 1. Il seno, 0. Un altro angolo è... I greco mezzi. Il coseno vale 0. Il seno vale 1. Avete visto alcuni esempi per i valori di seno e coseno di alcuni angoli. Ovviamente, al cambiare dell'angolo, anche i valori di seno e coseno varieranno. E possiamo disegnare l'andamento di questi valori in un grafico. Possiamo... disegnare... Il seno è il seno è il seno è il seno. Il seno è il seno è il seno.